Boh basta tengo la macchina lui non ce l'ha io l'ho già accompagnata sempre Boh basta perchè ho la macchina devo accompagnarla tutti quanti a chi l'ha già accompagnata 3000 volte mamma mia ma facete il cambio fate il cambio ogni tanto accompagnatelo pure voi oppure se la fai a pelle ma basta eh se la fa a piedi basta basta no ma com'è possibile che ogni volta lo devo sempre accompagnare io dice che non ha la macchina non guida non è possibile non è possibile io devo uscire con lei e invece sono rimasto con lui non mi ha pagato manco il casello fino a sotto al portone l'ho accompagnata quella capa di imbrello ma io l'ho chiamato e gli ho detto senti io vengo a piedi no e la macchina non la prendo si è bucata la ruota non ho la benzina vengo a piedi e a piedi sono andato e lui è uscito con la macchina del padre ah c'era una macchina e lei lei mi ha chiamato e ha detto no senti ho un mal di testa lei era con lui non è possibile non è possibile non è possibile non è possibile Grazie.